Il Green Pass, la cosa più schifosa che potevano ideare! Se in Italia mettessero il lockdown solo per i non vaccinati... Cosa c'è da commentare? Farebbe un'operazione nazista. Perché non fate un servizio sui danneggiati dai vaccini? Perché cominciano ad essere tanti tanti tanti, ma migliaia e migliaia. Eh sì, ma abbiamo fatto tanti servizi anche sui morti dei Covid, ma non ve li ricordate più? Ci sono stati 35.000 morti in più e non è il Covid, è in minima parte. E allora che cos'è? Se non questo maledetto vaccino! Vaccino obbligatorio? Assolutamente no. Non esiste pandemia, non esiste niente. Neanche il Covid? Assolutamente niente. Esiste una malattia che non è quella che voi ci vendete. E qual è? Sicuramente. Non è quella, è un'influenza. Vagliato! Vagliato! RORI Vagliato! Vagliato! Stanno mettendo un super du spazio. Basta, 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 basta. Vai, 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 vai. Henry, Henry. Non è giusco, non è giusco. Andate via, vai qualcosa altro. Basta che ti mettono le mani... Terroristi! 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 Sì, sì. Terroristi! 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 Libertà! Libertà! 76 anni fa veniva istituito il Tribunale di Norimperga per giudicare i criminali nazisti. Dobbiamo ricostruire quel tribunale per condannare questi assassini e criminali. La verità! La verità! La verità!